Buongiorno a tutti. Questa volta vi leggerò la determinazione numero 7 del 14 di gennaio 2015. L'oggetto? Liquidazione somme per il rimborso spese legali al segretario generale dottor Cristofaro Recuperi. Di cosa si tratta? Vista la propria determinazione dirigenziale con la quale sono state impegnate le somme per il rimborso delle spese legali al segretario generale dottor Cristoforo Recuperi, sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Trapa, in ufficio del giudice delle indagini preliminari, per reato di cui all'articolo 328 codice penale, riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dottor Cristoforo Recuperi nel giudizio penale conclusasi con ordinanza di archiviazione determinata in applicazione dei parametri forensi vigenti per la complessiva somma IVA e CPA di 8.107 euro allocata al bilancio dell'esercizio riportata alle residui passive eccetera eccetera per 7.000 euro eccetera al capitolo. Quindi determina per la causale impremessa di pagare la complessiva somma di 8.107 euro al segretario generale dottor Recuperi, giusto impegno assunto con la determinazione dirigenziale con prelievo per i capitoli che abbiamo detto, onere straordinarie della gestione economica eccetera per mandare al settore servizi finanziari per disporre 8.000 a favore del dottor Recuperi con accredito eccetera. Quindi il dottor Recuperi praticamente si paga con i soldi del comune il fatto che è stato inquisito e poi mi pare è stato archiviato. Questo non lo so, io non sono avvocato quindi non ne capisco niente e quindi sto zitto. Delibera di consiglio comunale numero 1 del 31 gennaio 2015, nomina di 3 consiglieri scrutatori e allora assume la Presidente e il Presidente Sibilia, partecipa il Segretario Generale Recuperi, la seduta pubblica, sono presenti 27 consiglieri, il Presidente esaurite le formalità proposte. Consiglio comunale, vista la legge regionale, vista l'altra legge regionale, delibera di disegnare scrutatori i seguenti consiglieri comunali. Cardarella Gioacchina, Vario Marianna, Sciacca Francesco. Il Presidente, da lettura della nota con la quale i consiglieri Coppola, Funderò, Vario e Stabile comunicano la costituzione di un nuovo gruppo consigliare denominato Sicilia Democratica disegnando il consigliere stabile capogruppo e la consigliera Vario vice capogruppo. Quindi praticamente ci sono persone che hanno costituito un nuovo gruppo consigliare che si chiama Sicilia Democratica. Poi ne so che ne sono stati costituiti altri di gruppi quindi addirittura il PD non c'è più ma si chiama in maniera diversa ma poi vi leggerò ovviamente le delibere. Qua c'è un continuo rimestare di costituzione dei partiti chi esce, chi entra, non se ne sta capendo più né. Cioè un cittadino non sa più per chi ha votato perché ha votato per tale partito poi il suo partito non è più costituito, si leva, ce n'è una... buh! Vabbè, questo non sono affari miei naturalmente e ve lo dico tanto per ridere, no? Perché sorridere fa bene. Bene, anche per oggi ho trasmesso grazie come sempre dalla vostra cortese attenzione e ci risenteremo la prossima volta. Grazie.